stava svolgendo una gara che gli avrebbe permesso di portare a casa i suoi primi punti in campionato poi però arrivano i casini e nel finale di gara si schianta su Vettel rovinando sia la sua gara che quella del suo amico nonché connazionale in una Miami che finalmente l'aveva visto davanti al suo compagno di squadra Magnussen Schumi Junior non riesce a concretizzare l'ottimo lavoro svolto dai Mick è arrivato il momento di cambiar passo forza nooo I mean let's clear my corner ok Mick we're gonna box we're gonna put the other front wing on ok checkered flag Mick checkered flag mode slow don't know what to say Mick you did well sorry well and I'll miss you at the end yeah I don't know what Grazie a tutti